Adesso ha acquistato una sua fisionomia precisa l'Ermea Olbia in vista della sua decima partecipazione consecutiva al campionato nazionale di A2 femminile di pallavolo. L'ultimo arrivo in casa bianco-blu è infatti quello della schiacciatrice giapponese Yuka Imamura, classe 1993 alta 1,75, che dopo tanta esperienza maturata in patria e con la sua nazionale ha deciso di mettersi in gioco in Italia. Yuka Imamura sarà la seconda staccante nipponica nella storia dell'Ermea dopo Mami Uchiseto ad Olbia nella stagione 2017-2018 e il suo ingaggio segue di poche ore quello della centrale Vittoria Belotti, 21enne di 1,81, che sbarca in Sardegna dopo una buona stagione in B1 a Castellanagrotte. Con questi ultimi due innesti la squadra sembra bella che fatta, ma la società sta ancora guardandosi intorno e potrebbe decidere di piazzare un ultimo colpo di mercato, dato che la Rosa al momento è composta a soli 11 atlete. Nel frattempo è stato fissato il giorno del raduno a Olbia, giovedì 24 agosto, e da lì il gruppo si sposterà per il ritiro di almeno tre settimane in sede ancora da stabilire. Il campionato prenderà il via domenica 8 ottobre e l'Ermea vuole farsi trovare pronta per dire la sua fin dall'inizio, alla caccia dell'ennesima qualificazione nella pool promozione.